Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 23 luglio 2022, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, come sempre leggeremo i giornali, sfoglieremo i giornali per quanto riguarda le croniche locali, il resto del carlino è il Corriere Adriatico, vi auguro un buon weekend, un buon weekend ricco di manifestazioni, di riposo, soprattutto di relax, con un tempo che si mantiene ancora molto molto caloroso, ma vediamo questo poi nell'almanacco, lo apriamo e intanto vediamo il Santo del Giorno. Oggi si festeggia Santa Brigida di Svezia, in realtà si chiamava Birgitta Birgesdotter, questo era il suo nome, era discendente dei re dei Goti, quindi era una persona nobile. A 16 anni sposò Ulfone, principe di Nericia, ed ebbe quattro figli maschi, di cui due morirono purtroppo bambini e due persero la vita nelle crociate, ebbe anche quattro figlie femmine, di cui due si fecero suore. Brigida condusse una vita finalizzata, soprattutto ad aiutare i poveri, fondò un ospedale e fondò anche l'ordine di suore Brigidine. Si spense a Roma, dove si era recata in pellegrinaggio nel 1373, dopo aver condotto una vita pia, una vita appunto dedicata ad aiutare gli altri. Vediamo le previsioni del tempo, ormai da tanti giorni, non faccio altro che ripetere che il tempo è stabile, soleggiato, con cieli sereni o al più leggermente velati. Caldo intenso, punte ancora oggi in aumento 38-40 gradi, specie nell'entroterra. Sulle coste i venti ispireranno da una direzione di sud-est, nell'interno invece da ovest e nord-ovest. Abbiamo dunque una diversa posizione del tempo, però insomma le correnti non leniranno il caldo, che continua ad opprimere il territorio e soprattutto le persone. Apriamo per primo oggi il resto del Carlino. Vediamo che l'apertura è dedicata all'incontro, all'assemblea che si è svolta ieri a Fano, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, dove l'amministrazione comunale ha presentato il piano di fattibilità della variante di Gimarra, ovvero del completamento dell'interquartieri. Un progetto che ha trovato ancora una volta una diversa visuale tra l'amministrazione comunale e alcuni ambientalisti. Gli ambientalisti non lo vogliono, contestano l'itinerario che è stato scelto dall'amministrazione comunale. Ebbene, per la Giunta, ne hanno parlato il sindaco Massimo Seri e il vice sindaco Cristian Fanesi, il progetto è importante per far sì che il traffico che in questo momento lambisce il centro storico, soprattutto il traffico di attraversamento, venga dirottato in un'altra direzione. Insomma, possa prendere l'interquartieri e portato al di là della città, verso nord, verso i confini di Gimarra. E questo ovviamente passando per le colline che sormontano il centro abitato. Vediamo il titolo. Variante Gimarra, un urlo in sala. Fermatevi. Il titolo del Carlino insiste soprattutto sulle obiezioni che hanno fatto gli ambientalisti. Una su tutte è quello che ha espresso Luciano Benini, ex assessore, ex consigliere comunale, ex dunque amministratore tra i più attivi contro la strada. Ha rivolto all'amministrazione comunale la sua proposta, ricordando che il progetto è vecchio, è stato fatto 60 anni fa, da allora molte cose sono cambiate. Si tratta di un impatto ambientale devastante, secondo Luciano Benini. E poi, insomma, non servirebbe molto la città, perché il traffico tra Fano e Pesaro, secondo quanto hanno accertato i tecnici comunali in una loro relazione, sarebbe minimale. Non sarebbe poi così importante come qualcuno potrebbe far credere. L'altra tesi, invece, da parte dell'amministrazione comunale. Dicevo che per far sì che il traffico, che in questo momento intasa diverse vie della città, possa dirigersi altrove e quindi alleviare i problemi che in questo momento incombono su alcune vie. Pensate, per esempio, Viale Primo Maggio senza marciapiedi o Viale Romagna, dove ogni tanto accadono degli incidenti, per non parlare di Viale Gramsci. L'altra notizia, invece, importante, sempre sul piano della viabilità che evidenziano i giornali, è quella di una conferenza stampa che si è svolta sempre ieri mattina, addirittura in piazza 20 settembre, dove il Comune ha annunciato un cambio radicale per quanto riguarda la gestione, la cura, la manutenzione delle strade. Non più una pattuglia comunale, che sappiamo molto esigua, non più un progetto misto con l'incarico a diverse ditte, che ha trovato poi diverse difficoltà, ora si dà l'incarico ad una ditta unica. Si tratta della ditta AVR per 1,6 milioni in due anni, la quale garantisce un servizio H24 su tutti i 450 chilometri di strade gestiti dal Comune. E il bello di questo nuovo incarico è che tutti i cittadini possono segnalare l'esistenza di buchi, di cartelli stradali che sono arrugginiti, oppure problemi che non vanno, telefonando al Comune allo 0721 887 526, da lunedì a venerdì e alle 9 alle 13, oppure segnalando la presenza di buche, oppure cose che debbono essere oggetto di intervento, all'indirizzo email segnalazioni-comune.fano.pu.it. Ripeto ancora, segnalazioni-comune.fano.pu.it. Queste sono delle segnalazioni che indurranno il personale della ditta a intervenire in un rapido scorcio di tempo e quindi ci dovrebbe essere un miglioramento per la tempestività della cura e la manutenzione delle strade. Vediamo le altre notizie segnalate dal resto del Carlino, il quale annuncia ancora l'intervento di una truffa che ha per oggetto la rivista della Polizia. Molti cittadini hanno ricevuto telefonate. Vuol fare un abbonamento alla rivista della Polizia. Potrebbe avere anche dei vantaggi. Addirittura, se lei è un imprenditore, potremo trovare qualche cliente in più. Insomma, c'è una telefonata che ovviamente è una truffa e gli organi ufficiali della Polizia sono completamente estrani a queste iniziative. Quindi, attenzione, vi chiedono 173 euro al mese per diventare amico delle divise. Se non lo fate rispondendo a queste telefonate, dimostrate la vostra amicizia in altro modo alle forze dell'ordine e alla Polizia. Polizia. Abbiamo menzionato la Polizia e la Polizia è intervenuto all'interno del Vittorio Colonna, occupato ancora una volta in forma abusiva da quattro senza tetto, i quali sono stati allontanati. Hanno trovato su una segnalazione, ovviamente, quattro persone, tre uomini e una donna, di cui due stranieri che erano entrati nei locali dopo che qualcuno, forse prima di loro, aveva sfondato la recinzione. E la recinzione ogni tanto, dopo che viene riparata, viene sfondata di nuovo. Il problema vero è che ancora il Vittorio Colonna, che è un grande complesso, che occupa quasi tutto un isolato a Fano, in via Montegrappa, deve essere adibito ad uno scopo, perché lasciarlo andare in malora così, veramente, è un grosso peccato. Tutte e quattro le persone sono state portate in commissariato, sono state identificate. Uno straniero dell'est europeo di nazionalità serba è risultato irregolare ed è stato espulso. Per gli altri due, invece, si procederà a denunce nel caso in cui la proprietà dell'edificio avvierà una querela, perché appunto questi sono reati perseguibili solo su querela. Ascensore dei desideri ci rimettono i disabili. Questa è una protesta che proviene da Marotta e l'ha fatta il capogruppo di minoranza consigliare di Mondolfo, Anteo Bonaccorsi. Siamo ormai a metà della stagione turistica e ancora l'ascensore del nuovo sottopasso ciclopedonale della ferrovia di Piazza Roma deve entrare in funzione. L'impianto ancora non è disponibile. Lo avrebbe voluto il sindaco al posto delle rampe ed ecco perché il capogruppo della minoranza interviene. E qua lo vediamo nella fotografia Bonaccorsi che illustra l'ascensore che non funziona. Maxi rissa davanti al MIU. Otto sfileranno davanti al GUP. L'udienza preliminare è stata fissata per il 7 dicembre prossimo. Le parti lese, oltre all'accoltellato, sono due carabinieri del norme di Fano. Si tratta di una rissa molto molto violenta che per un puro caso non si è trasformata in una tragedia che accade il 7 agosto dell'anno scorso davanti al MIU disco dinner di Marotta. Era un diverbio tra i senagalesi e gli albanesi. Insomma, due gruppi etnici diversi. Una sola pattuglia di carabinieri inizialmente sul posto con uno di loro afferrato alle spalle da un albanese che cercava di farsi scudo è intervenuta. E' successo quello che è accaduto. Ora però, tutti coloro che sono stati coinvolti e quindi presi durante questa rissa dovranno risponderne davanti al giudice. A Urbino c'è una protesta. In realtà non è ad Urbino. È sulla pagina di Urbino, ma si riferisce a Frontino, quel piccolo paesino molto molto bello dell'entroterra pesarese. Ebbene si indigna il sindaco Andrea Spagna perché nella guida della Coffcommercio si tratta dell'itinerario della Corte del Duca Federico non è stata per niente menzionata la Pala del Santi che è nella Cappella Conti Oliva di Montefiorentino. Si tratta di uno dei quadri più significativi del padre di Raffaello tanto che è stato assunto un po' come simbolo dell'arte del nostro territorio. Ma perché il sindaco protesta? Protesta perché vorrebbe che l'arte fosse riconosciuta per quello che è. In realtà il sindaco e il comune non hanno aderito agli itinerari della Coffcommercio e l'associazione di categoria ovviamente esclude i comuni che non partecipano anche in maniera onerosa all'iniziativa degli itinerari. Un'iniziativa che invece sta riscuotendo successo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Caro sindaco, piantaci gli ipocastani e con questo articolo siamo a Fossombrone. Parla così il circolo di rifondazione che interviene sulla polemica degli alberi abbattuti e lancia una controproposta al primo cittadino Massimo Berloni. Il modo, secondo rifondazione, di intervenire sarebbe molto molto semplice. Invece di sostituire gli ipocastani abbattuti con dei lecci, così come intenderebbe fare l'amministrazione comunale, la soluzione sarebbe ovvia, papabile. Sostituire gli ipocastani con altri ipocastani. Questa è la proposta. È un po' l'uovo di Colombo tirato fuori da rifondazione. E ora voglio segnalarvi anche un'altra bella notizia. Una bella festa per riaprire la strada della gola del Furlo. Una strada chiusa, una strada panoramica bellissima, chiusa da diversi mesi, riapre oggi, dopo quasi un anno e mezzo di chiusura, la strada del Furlo. Taglio del nastro fissato alle 16.30 alla presenza delle autorità provinciali, del sindaco di Fermignano e dei responsabili di Enel, che per la presenza della vicina diga hanno contribuito ai lavori. Ci sarà anche il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, che evidenzia come i tempi sono stati rispettati e l'opera finalmente ora è libera, accessibile, sicura ed è un'attrattiva turistica di per sé molto importante. Passiamo ora alle pagine pesaresi del resto del Carlino. Parliamo di elezioni, perché insomma, dopo quello che è accaduto a Draghi, si sta movimentando tutto il mondo politico della regione Marche. Elezioni non solo Ricci nella partita dei sindaci. Carloni dribbla le voci, penso alla regione, ha detto, però siamo insomma alle prime battute. E anche la sindaca di Ancona, la Mancinelli, potrebbe entrare in lizza. Seri si tira fuori il sindaco di Fano. Oltre alla Morani, anche Biancani, tra i papabili sul fronte del Partito Democratico. Vediamo qui qualche nome estrapolato nell'articolo. L'abbiamo manzionato, Matteo Ricci è tra gli interessati, così come Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona. È circolata la voce che anche Massimo Seri, sindaco di Fano, stia facendo un pensierino alla candidatura, ma lui sembra piuttosto scettico. E poi oltre a Ricci potrebbe ritentare, anzi ritenterà, Alessia Morani, reduce da due mandati e pronta a riprovarci. Andrea Biancani, anche lui, è in astri di partenza. L'altro fronte caldo è quello degli assessori regionali. Mirko Carloni, Guido Castelli e Giorgia Latini. Sono i tre nomi che potrebbero puntare al Parlamento. Si tirano fuori con più decisioni, invece, Stefano Aguzzi, non ci penso nemmeno, ha dichiarato drasticamente, e Francesco Baldelli. La mia scelta continua è quella di continuare a lavorare per le Marche, insomma, avrebbe detto. E questo è, al momento, quello che si prepara per le elezioni di ottobre. Guardie mediche decimate è veramente un disastro. Il titolo è molto significativo e aderente alla realtà. La mobilitazione del Partito Democratico per la carenza dei professionisti. Una cittadina ha dichiarato assurdo dover chiamare il 118 perché il servizio è chiuso. È l'unica alternativa, quella di rivolgersi al pronto soccorso. Quando uno si sente male, telefona alla guardia medica, non risponde nessuno. Dove va? Il medico di base di notte non risponde. Deve andare al pronto soccorso. E quindi si intasano questi reparti che dovrebbero servire all'emergenza. Invece servono sempre più ai codici bianchi e ai codici gialli. Insomma, per dei semplici malesseri, delle semplici ferite, devono aspettare e quindi magari c'è l'intasamento con tutti i problemi che ne conseguono. Da lunedì al giovedì rispondono alle telefonate da Urbino, da 28 medici, e nel servizio delle guardie mediche, che su tutti i comuni siamo passati a soli 8. Quindi vedete come il numero si è ridotto drasticamente. Rischi e burocrazia fanno fuggire i camici. Un altro articolo sul resto del Carlino. Bucci, che è il segretario delle guardie mediche, aderente alla Federazione dei Medici di Medicina Generale. Il numero chiuso? Ebbè, è una foglia di fico, afferma. Nelle Marche siamo messi peggio che in altre regioni. E qui abbiamo un lutto. È scomparso l'avvocato Mario Coli, il decano degli avvocati pesaresi. Aveva compiuto 90 anni lo scorso maggio. Un carattere riservato, lobby del tennis, la passione forense trasmessa ai figli. Pazienza e grinta e concentrazione erano le sue caratteristiche e l'importante, aveva sempre detto, è fare il meglio possibile per il cliente. L'ultimo saluto al decano degli avvocati è fissato per lunedì prossimo alle ore 10 in Cattedrale a Pesaro. Porto è il centro storico, un doppio colpo dei ladri. In una casa il bottino addirittura è di 50 mila euro. un bottino veramente importante. Sono stati visitati due edifici in Viale Napoli e hanno tentato anche nell'abitazione a fianco. Viale Napoli, all'altezza del numero civico 70, i ladri si sono introdotti forzando un ingresso, hanno rovistato nei cassetti e hanno rubato un bottino di circa 5 mila euro. Il secondo furto è avvenuto in via Barignani, molto più sostanzioso. La stessa cosa, l'effrazione dell'ingresso, frugato nei cassetti. Ebbene, questa volta, con tanti e gioielli, hanno fruttato circa 50 mila euro. Questo è l'inventario fatto dai proprietari. Ci siamo, arriva Valentini, con il casco gigante a Pesaro, un enorme casco, con il numero di Valentini. Verrà ufficialmente collocato e inaugurato lunedì prossimo alle ore 18.30 in Piazzale D'Annunzio, lungo Viale Trieste. Uno delle icone, uno degli emblemi della Pesaro motoristica, della Pesaro che, oltre come città della musica, è la città appunto delle moto, nota in tutto il mondo. E qui abbiamo invece una disavventura di un pesarese che era direttore dell'ENIT per la Cina. Ebbene, a causa... Lui lavorava a Shanghai. Ebbene, a causa della pandemia, a causa del lockdown, è stato murato, nel senso che non poteva più uscire, dentro casa addirittura, per due mesi. Fuori c'erano le guardie armate che non facevano uscire nessuno. Per fortuna era sposato con una cinese che con le sue relazioni è riuscita almeno ad approvvigionare la famiglia dei generi alimentari, a fare una spesa comune di tutto il palazzo. Insomma, è stata una brutta esperienza. Ora è tornato a Pesaro, è tornato in Italia e quindi la può raccontare. Ma quei momenti sono stati davvero brutti. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. Vediamo come l'apertura sulla pagina di Fano questa volta invece è dedicata non all'Assemblea che si è svolta ieri nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, ma di tutti i problemi che sono nati per la nomina del Consiglio d'Amministrazione dell'ASET-SPA. Vertici-ASET-SERI perde la partita. Deve modificare il suo pacchetto. Che cosa è accaduto? È accaduto che mancano le quote rosa. Una rappresentante femminile come Grazia Mosciatti non basta all'interno del direttivo. e siccome il sindaco di Fano ne nomina tre dei consiglieri anzi mi sembra quattro e deve modificare almeno uno e quello che dovrebbe essere scartato potrebbe essere Mattia De Benedittis mentre invece dovrebbero essere confermati ovviamente il presidente Paolo Reginelli il vice Vincenzo Galasso poi Grazia Mosciatti e quindi bisogna sostituire Mattia De Benedittis che era un po' il rappresentante delle liste civiche. Per quanto riguarda invece i comuni Riccardo Rocchetti è indicato dai comuni dell'entroterra. Insomma, quattro uomini e una donna ci devono essere più donne per le famose quote rosa. La macchina comunale manovre post Celani le dimissioni da capo gabinetto di un dirigente importante come Pietro Celani ebbene conservando il suo ruolo come dirigente di primo settore Celani si occuperebbe del personale, del servizio informatico degli appalti e contratti dell'ambiente e dello sport. E' un settore anche l'ufficio del sindaco che comprende servizi come l'ufficio relazioni con il pubblico avvocatura, società partecipate segreteria del primo cittadino. Questi sono un po' i compiti di un capo gabinetto e qualcosa Celani dovrà lasciare. Anche qui vediamo le iniziative di ieri l'interquartieri riduce il traffico che ora lambisce il centro storico e una dichiarazione del vice sindaco Cristian Fanesi mentre un articolo di Spalla manutenzione strade l'era del gestore unico cambio radicale e si spera anche più efficiente per quanto riguarda la manutenzione delle strade soprattutto la copertura delle buche che ce ne sono veramente tante. Il mare sposa la tradizione a Marotta torna la festa della tratta è uno degli eventi clou dell'estate manottese si pesca all'alba e al tramonto torna dunque questa bella iniziativa organizzata dall'associazione Malarutta tradizioni e no gastronomia divertimento sono gli ingredienti di uno degli eventi di maggior successo dell'estate marottese e a proposito invece delle manifestazioni fanesi voglio ricordarvi che è già cominciato il festival di Fano Gez nella città della fortuna e da ieri oggi e domani a Tre Ponti si svolge la nota festa della Crescia Matta un'iniziativa gastronomica una delle più antiche quindi delle più tradizionali che è giunta alla sua 37esima edizione ci sarà tanta musica ci sarà del buon cibo ovviamente una delle caratteristiche loca in porchetta oltre alla Crescia Matta ma ci sarà anche animazione per i bambini e poi lunedì prossimo tutti all'arena BCC per vedere il concorso sulle Barzallette vediamo ora le notizie che riguardano Pesaro sul Corriere Adriatico e vediamo come si parli soprattutto di parcheggi in via Curiel via Curiel riqualificata ha dovuto essere un po' penalizzata per quanto riguarda i posti auto gli stalli da tagliare sono ancora un rebus la soluzione del Comune destinare ai residenti i posti auto in Piazzale Carducci insomma si toglie di qua e si riserva un po' più in là il problema dovrebbe risolversi con un aspetto migliore per quanto riguarda per quanto riguarda via Curiel e allo stesso tempo invece un migliore posto per i parcheggi siamo in via di conclusione voglio segnalarvi soltanto i lavori alla San Giovanni il Chiostro è in sicurezza questa bellissima chiesa scusate questa bellissima chiesa in via Passeri a Pesaro sarà ristrutturata e ci sono anche i fondi 4 milioni di lire è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi augura un buon weekend questo è tutto a risentirci a Pesaro